Ciao a tutti ragazzi, poi mi hanno andato 740 e oggi faremo un video speciale perché mi vedete sempre lì, Fortnite e un video di Minecraft e oggi faremo un video molto speciale che vi farò vedere i miei giochi della Play, sono 5, compreso uno che vi spiegherò. Questo è il mio primo gioco che ho giocato, che è questo della PlayStation 2, c'è il cosino qua del GameStop a regola, e niente, questo è uno dei primi giochi che ho avuto, ed è molto vecchio, però è molto bello, è uno dei miei primi video, è uno dei primi giochi, non so più parlare, è incredibile. Bene. E quindi questo ci ho passato tutta l'infanzia e non lo butterò mai via. Quindi Real Fishing 3 della PlayStation 2. Parto da quelli più vecchi, FIFA 16, anche questa l'ho ricevuta tramite la PlayStation, e la PlayStation l'ho avuta a Natale di un po' di tempo fa. Due anni? No, anche tre. Bene. E questo è uno dei primi giochi che ho avuto, oltre a quello. Quindi, anche questo è uno dei miei giochi. Questo è un altro gioco che adoro, ancora adoro. Non ci gioco, però adoro, non si vede niente. Alcune volte ci gioco off camera, quindi ci diverto ancora. Oh, anche io ci gioco se è per questo. Ci gioco anche lei. E questo mi è stato regalato da degli amici, Lorenzo, Thomas e Alessio, che saluto, ciao. Poi al fine del video saluterò un'altra persona che si è iscritta, e poi vi dico un'altra cosa. È un famoso console, me l'hanno regalato e questo ci tengo un fottio. E quindi lo tengo ancora. Prossimo. Questo. Questo è GTA V, che mi è stato regalato. No! Prima c'era qua. Due anni fa, Zitta. Due anni fa mi è stato regalato. Mi è stato regalato. E non è un gioco per me, perché è tutto spaccone. Però per me sì. Io mi scelto, faccio le missioni, ammazzo le persone e va tutto bene. È bellissimo. È stato regalato due anni fa, per Natale, e quindi bene. Questi li ho messi in fila, dai più recenti ai più vecchi. Sì, le stavate. Terzo, quarto gioco. Minecraft. Che è stato regalato un anno fa. Tutto... Gli posso raccontare io la storia? Un anno fa. Dai. Praticamente è stato uno dei miei giochi preferiti, perché fino a... Come si chiama? Fino a tipo un annetto fa, non mi piaceva. Ho visto la demo che c'era nel negozio delle PlayStation Store e ho detto, wow, questo lo devo provare. Infatti l'abbiamo comprato. Infatti questo gioco merita. Quindi compratelo, che costa... Costa 20 euro. Costa neanche. Se andate all'Oronix lo prendete a 15 euro, 18 euro. Quindi merita... Comunque, eravamo appunto lì che facevamo a spesa. No, niente questa roba qui, niente, niente. Ah, bravo. Però in un video ve lo racconto. Vi racconterà la storia a lei, perché io non ho voglia. Quindi merita veramente questo gioco, merita veramente, quindi compratelo, è veramente bello. E questo è l'ultimo gioco che ho comprato. Farming Simulator. Che questo ha tutta una storia, perché io da piccolo adoravo, e dopo adoravo, i trattori. I trattori, cioè ogni volta che le vedi le... Quello che veniva qua a tagliare il grano mi faceva montare sempre. È vero. Di trezza e vedevo sempre tutto bello. Comunque, poi un tuo amico... Gioca ancora. Poi c'è un tuo amico, che saluto, che anche questo piace. Che nella Play è Ares, quello che ci gioca. Ares, che ci ho giocato ieri. E ieri l'altro. Questi sono i miei due joysticks. Questa è con la Playstation. Questo è mio, questo è mio, il nero io. È il mio colore preferito. E questo che mi ha presso l'altro mio padre, che era in Poneso, prima 16, che si giocava a lui. Quindi questo è di platino. Comunque, gli spiego un'altra cosa. Saluto 1, che si è scritto recentemente. Matteo, staccato, che si è scritto recentemente. Se volete anche voi essere salutati in un video, dovete lasciare un commento che ho scritto sei un grande, mi faccio i tuoi video, cose così che almeno... Oh, mi saluti. Mi saluti. Prima ti devo... Io vi lascio il coricino e vi lascio anche il mi piace. Quindi, grazie a tutti. Comunque, se volete delle serie su questi giochi, tipo su FIFA 16, second sonno, GTA, Minecraft oppure Farming, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E ragazzi, allora, domani, domani... In un prossimo video raggiungiamo i 5 like. Se vi piace questa serie, oppure se mi volete supportare, arriviamo a 10 like. E se volete una live, arriviamo ai 20 like. Siamo ai 26, dovremmo farcela. E quindi, aspetta... Se dovremmo, se volete fare una nuova serie su questi nuovi giochi, scrivetemelo e io ve li faccio, vi lascio il coricino e il mi piace. Quindi, arriviamo a 5 like per un prossimo video. Hai detto 10! 10 like se vi piace questa serie, oppure 20 like se volete cominciare una live. Quindi, no, domani già lo 740 è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. E una cosa, una cosa... Scusate la mia nonna. Allora, praticamente, noi domani faremo... Non un video, tre video, credo. Tre video... Vabbè... Tre, ne facciamo tre? Dei registrazioni, perché lunedì e martedì non ci siamo. Che direi frega loro? Vai, su! Almeno domani sanno e sanno che lunedì e martedì non si può fare un video. Ecco, tre video domenica, quindi ciao! Ciao! Ok, quindi sopportate tutta questa serie. Quindi, grazie! Ciao! Ciao!